Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Lamberto Sposini, il famoso giornalista, per spiegare esattamente chi era, dobbiamo tornare indietro nel tempo a una data chiave per spiegare perché è sparito dalla TV ai 29 aprile del 2011. All'epoca il giornalista conduceva insieme a Mara Venier, la vita in diretta, ma poco prima della messa in onda Lamberto Sposini viene colpito da un emoraggia cerebrale. Si accascia e si ritrova ricoverato al Policlinico Gemelli Roma. L'operazione è stata delicatissima e la riabilitazione lunga è mai del tutto completata. Come sta oggi Lamberto Sposini dopo il malore? La notizia è arrivata poco fa. Per fortuna Lamberto ha riacquistato la motricità. Sposini soffre ancora di afasia, cioè l'incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura. Una condizione grave, che ha segnato per sempre il famoso conduttore. Condizione che aveva raccontato nel 2014 proprio Sabina Donadio, la quale ha accusato anche la RAI di aver tardato a soccorrere il conduttore, chiedendo un risarcimento.